Digitalizzazione, immaginare scelte in linea con la filiera e adeguare il sistema alle scelte che devono essere messe in campo per cogliere al meglio le opportunità. Questo è il fine dell'incontro tenutosi a Lecce presso il Tenato Pollo, alla presenza delle massime cariche politiche ed istituzionali e del sottosegretario Butti. Le aziende italiane lamentano una concorrenza verso quelle che sono le aziende estere. Come il governo tende a tutelarle? Beh, innanzitutto hanno ragione, nel senso che fino a un anno, un anno e mezzo fa c'era questa abitudine di essere sostanzialmente supini rispetto alla impostazione delle grandi e potenti realtà e delle grandi e potenti dimensioni tecnologiche. Abbiamo cominciato noi a parlare di sovranità digitale, è stato sdoganato il termine. Noi dobbiamo fare in modo che all'interno di questo concetto di sovranità digitale rientrino pienamente le nostre piccole e medie imprese. Lo sforzo del governo dovrebbe essere insomma quello di mettere insieme una visione comune tra il carattere normativo e le esigenze delle aziende. Il piano nazionale di ripresa e resilienza ha sulla digitalizzazione un importo notevolissimo, tra i più alti in assoluto, anzi il più alto in assoluto a livello europeo, quindi è giusto che anche sulla base della situazione esistente si faccia questa valutazione. Bisogna tenere conto che chiaramente molte delle questioni di cui ci occupiamo sono state già avviate precedentemente, quindi bisogna trovare un metodo di lavoro che guardi a questo aspetto e soprattutto anche centrando il risultato sul terreno della digitalizzazione. Agenda digitale propone delle opportunità ma anche delle insidie, prevede la trasformazione del paese, ma il gap è ancora molto ampio tra il nord e il sud, rimanendo in un contesto nazionale. Occorre riflettere sul comparto e sulle dinamiche che rischiano di lasciare fuori piccole e medie imprese.